Con ISEE non si fa mai la storia e questo lo sappiamo tutti, in molti però soprattutto Sponda Gela, tifose, detti lavori, giocatori ed altro, alla fine della gara pareggiata 0-0 ieri contro i casertani del Gladiator avranno pensato a quanto sarebbe stata diversa una gara giocata sul sintetico di casa e non sul neutro di Leonforte, pergiunta ieri appesantito dalla pioggia abbondante caduta nelle ore precedenti. Una situazione di certo uguale per tutti esiderà, ma sicuramente non per un Gela che a causa dei lavori di manutenzione del Presti ha dovuto praticamente giocare la sua seconda trasferta di fila con tutti i problemi del caso. Alla fine però occorre guardare avanti e la squadra del tecnico Pietro Infantino si gode comunque un buon punto ottenuto contro una delle squadre accreditate alla vittoria finale del torneo di quarta serie. Biancazzurri che ci hanno provato in tutti i modi a sfondare la retroguardia campana al nuovo comunale della cittadina innese però alla fine è arrivato solo un pari ad occhiali che accontenta tutto sommato tutti anche se quel se a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio ronza sempre di più nelle orecchie. La cronaca, il tecnico gelese si fida agli stessi undici delle ultime due gare con Alma ancora in tribuna ma quasi sulla via del rientro. Nel gladiatore assenti oltre allo squalificato tedesco anche altri quattro giocatori tutti infortunati. Campani che venivano dalla brutta batossa subita in casa da Ligea Virtus e che non volevano fare un'altra brutta figura. Si gioca come dicevamo su un campo pesante per via della pioggia e davanti a circa 300 tifosi che hanno sfidato nebbia, pioggia e tornanti che da gelà portano al centro innese. Si comincia con un colpo di testa di Del Sorbo dopo quattro minuti con il Gela che inizia timoroso ma poi prende campo. Bruno e Chiedichimo appoggiano Montalbano e Cosovan sui esterni mentre Nassi viene lasciato al proprio destino in mezzo all'area di rigore. Bonafini prende in mano la squadra ma al ventiquattresimo Criniti ex di turno sfiora il gol con un piatto sinistro da dimenticare. Sul contropiede al Gela va vicinissimo alla rete. Montalbano serve un cross al bacio per Cosovan che invece di piazzare di testa la sfera decide di provare una girata spettacolare sbagliata. Al trentatresimo ancora Montalbano è bravo ad incurearsi in area di rigore ma nessuno è pronto ad approfittarne. Nella ripresa al dodicesimo ci prova Schisciano ma la conclusione è parata da Zeoli. Al sedicesimo Nassi prova la via del gol con un sinistro che impegna Zeoli. Al ventottesimo Infantino tira fuori Nassi per Bonanno. L'unico brivido arriva al trentacinquesimo con De Falco che tira sull'esterno della rete. La gara termina così a reti inviolate ma senza musidunghi da entrambe le parti. Due squadre che si rispettavano e che hanno messo in campo tanto agonismo senza risparmiarsi. Biancazzurri che a questo punto dovranno preparare quella che potremmo definire la terza trasferta della stagione di fila questa volta in quella di Gragnano. I lavori sul manto erboso dello stadio gelese sembrano quasi terminati e con esso anche il calvario della società con il delfino nel vessillo. Oggi intanto potrebbe esserci qualche novità di mercato soprattutto per quanto riguarda il tanto atteso difensore centrale.